Il nome dei bocattivi di l'aria, la restituiscono pulita, capito? Allora, ma come funziona? Un ciclo qua, c'è un filtro? Eh, un'aspiratura, un filtro, c'è un po' cattivi e poi c'è anche questo... E poi c'è questo filtro, quello che tenete pulito, non è stato... No, alcuni, dopo 15 anni, si devono costituire. Quindi c'è questo qua, si devono trovare il suo, potete fare le tue di tensione... Guarda, pure il massimo, noi abbiamo costituato due attivi. Però... Non l'ha preso, non l'ha preso. No, non l'ha preso. No, non l'ha preso, non l'ha preso. Grazie Grazie Buongiorno Grazie